Lunedì 20 maggio. Zeynep si trova in una situazione difficile, costantemente sotto pressione sia dalla famiglia di Nian che da Emir, i quali mostrano un'evidente avversione verso la sua presenza nella loro abitazione. Emir, con un atteggiamento minaccioso, avverte Zeynep che è intenzionato a smascherare la sua messa in scena senza ulteriori indugi. Nel frattempo, Asu entra in possesso di alcune fotografie compromettenti che ritraggono insieme Zeynep ed Emir. Decisa a manipolare la situazione a suo vantaggio, Asu si confronta con Zeynep, esortandola a prendere iniziative immediate per prevenire che Emir possa usare le immagini per ricattare Kemal. In un tentativo disperato di salvaguardare la propria posizione, Zeynep persuade Ozana a proclamare pubblicamente il loro matrimonio, una mossa audace che sorprende tutti, inclusa Vildan. Vildan, che ha altre intenzioni per i due, desidera che si separino legalmente, ma resta all'oscuro dell'annuncio di Ozana. Nel frattempo, Asu, determinata a proteggere Kemal, affronta Emir e gli rivela di aver intercettato le fotografie che lui aveva mandato a Kemal. Lo avverte con fermezza di astenersi dal causare danni a Kemal, minacciando ritorsioni qualora non rispettasse la sua richiesta. Colto di sorpresa, Emir decide di archiviare temporaneamente le foto, pianificando di utilizzarle in un momento più opportuno per massimizzare il proprio vantaggio. L'atmosfera si surriscalda ulteriormente quando Emir e Kemal si trovano faccia a faccia, scatenando un'accesa discussione incentrata sulle complicazioni portate da Zeynep nella loro vita. Le tensioni sono palpabili, evidenziando una trama di intrighi, minacce e alleanze fragili che promette di intrecciarsi ulteriormente nei futuri sviluppi. Martedì 21 maggio. Nian, sempre più sospettosa e decisa a scoprire i segreti che Zeynep nasconde, si rivolge a Sali per cercare aiuto e consigli. Parallelamente, anche Kemal, che sente il bisogno di fare luce sulla situazione, prende l'iniziativa di contattare Ozan per un incontro chiarificatore. Tuttavia, la situazione prende una svolta inaspettata quando Ozan si rende conto che Zeynep è sparita senza lasciare tracce. In cerca di risposte, Ozan trova una lettera lasciata da Zeynep. Nelle righe scritte con emozione, lei confessa il suo amore per lui ma spiega anche la sua decisione di chiedere il divorzio per non dividerlo dalla sua famiglia, un gesto di sacrificio che la tormenta profondamente. Colpito da disperazione, Ozan viene sopraffatto dal dolore e compie un tentativo di suicidio. Fortunatamente, viene trovato in tempo da Onder e Vildan, che lo soccorrono e lo portano d'urgenza in ospedale, dove i medici riescono a salvarlo. Nel frattempo, la trama si infittisce ulteriormente quando Nian, facendo leva su Zeynep per ottenere informazioni cruciali, raggiunge lui e Kemal in un luogo segreto dove Karen e suo marito dovrebbero ritirare i passaporti necessari per la loro fuga. Proprio quando Kemal e Zeir stanno per intervenire, la situazione prende una svolta in attesa con l'arrivo improvviso della polizia, che arresta Karen e Tanner. Dopo l'incidente, Nian e Kemal scoprono che i coniugi non sono mai stati portati in una stazione di polizia, il che alimenta i loro sospetti su un possibile intervento di Emir. Le loro paure si rivelano fondate quando viene confermato che Karen e suo marito sono effettivamente nelle mani di Emir. Questo sviluppo porta Nian e Kemal a riflettere sulle loro prossime mosse, consapevoli che dovranno agire con cautela e determinazione per contrastare gli oscuri piani di Emir e salvare gli innocenti coinvolti. Mercoledì 22 maggio. Un uomo enigmatico, che successivamente si rivela essere Tufan, decide di agire nell'ombra inviando anonimamente a Nian e Kemal alcune registrazioni audio. Questi file contengono l'interrogatorio condotto da Emir nei confronti di Karen, offrendo così a Nian e Kemal una prospettiva inquietante ma preziosa sulle intenzioni di Emir. Dalle registrazioni, i due comprendono che Emir è ormai a conoscenza dei loro sospetti nei suoi confronti. Tuttavia, Emir ignora che anche Nian e Kemal sono stati messi al corrente di questa sua consapevolezza, creando un complicato gioco di specchi tra le parti. Questa rivelazione rafforza la determinazione di Kemal, che si sente ancor più spinto a proseguire la sua battaglia contro Emir, deciso a non lasciarsi intimidire né fermare dalle minacce dell'avversario. Intanto, una notizia sconvolgente giunge alle orecchie di Nian, il tentato suicidio di Ozan. Profondamente turbata, si precipita in ospedale per stare accanto a lui. Lì, nel tentativo di offrire conforto, Nian assicura a Ozan che faranno tutto il possibile per riportare Zeynep a casa, un gesto di solidarietà e supporto familiare che risponde anche a una richiesta disperata di Vildan, la madre di Ozan. Vildan, infatti, temendo per il benessere psicologico e emotivo del figlio, aveva precedentemente implorato Kemal di intervenire per riunire la famiglia. Questi intricati legami e le pesanti tensioni non solo mostrano quanto siano complicati i rapporti tra i personaggi, ma sottolineano anche l'intreccio di lealtà, tradimenti e piani nascosti che caratterizzano il loro mondo. Nian e Kemal, pur immersi in queste dinamiche familiari e personali, devono trovare il modo di navigare queste acque tumultuose, cercando di proteggere i propri cari mentre si confrontano con un nemico che non mostra segni di cedimento. Giovedì 23 maggio. Emir arriva all'ospedale, turbato dagli eventi recenti. Poco dopo, si presenta anche Tufan, visibilmente preoccupato per il benessere del suo capo e ansioso di portare avanti gli ordini ricevuti. Egli si offre di indagare sulla scomparsa di Karen e suo marito, cercando di scoprire dove siano stati trasferiti. Tuttavia, in una mossa inaspettata, Emir decide di esonerarlo da questa responsabilità, suggerendo che abbia altri piani in mente o forse nutrendo qualche sospetto nei confronti di Tufan stesso. Nel frattempo, Zeynep si trova in una situazione precaria, senza un rifugio per la notte. In un gesto di disperazione, si rivolge a Sali. Nonostante le iniziali resistenze di Sali, Zeynep riesce a convincerlo ad accoglierla. La loro serata si trasforma in un'opportunità per approfondire il loro rapporto e chiarire alcuni malintesi, cercando di stabilire una base di nuova fiducia reciproca. Mentre Emir inizia a nutrire dubbi e sospetti verso Tufan, temendo che possa non essere completamente leale o coinvolto in attività sotterranee, la situazione si complica ulteriormente. Sali, comprendendo la delicatezza della situazione in cui Zeynep si è trovata, decide di contattare Kemal per informarlo della presenza della ragazza a casa sua. Preoccupato per lei e per le dinamiche familiari in gioco, Kemal si precipita da Sali per portare Zeynep all'ospedale dove Ozan è ricoverato. L'arrivo di Zeynep all'ospedale serve come catalizzatore per momenti di riconciliazione e confronto. La situazione critica di Ozan forza tutti i personaggi coinvolti a riflettere sulle loro azioni e sulle conseguenze delle loro scelte. Le dinamiche tra i personaggi si intensificano, rivelando un intreccio di lealtà, tradimenti e segreti che continuano a definire il corso degli eventi. Venerdì 24 maggio 14 e 10. Zeynep, in un momento di intensa sincerità, confida al fratello di provare un vero amore per Ozan, rivelando anche le ragioni profonde che l'hanno spinta a lasciare la casa dei Sezin. Il principale motivo del suo allontanamento sono stati gli innumerevoli conflitti con Vildan, la cui presenza nella sua vita ha creato una tensione insostenibile. Zeynep espone la situazione con trasparenza, sperando di ottenere comprensione e sostegno da parte di Kemal. Ascoltando le parole di Zeynep, Kemal si rende conto della sincerità dei sentimenti che la sorella nutre per Ozan e della complessità delle circostanze che hanno portato alla sua fuga. Dopo un'attenta riflessione, decide di supportare la relazione tra Zeynep e Ozan, ma pone una condizione essenziale, Zeynep non dovrà più vivere sotto lo stesso tetto di Vildan e Demir. Kemal crede che questa scelta possa garantire alla sorella un ambiente più sereno e meno conflittuale, permettendole di costruire una relazione più stabile e felice con Ozan. Nel frattempo, la trama si arricchisce di ulteriori sfaccettature con l'intervento di Galip, una figura interessata agli sviluppi immobiliari legati alla casa di Leila. Preoccupato per le proprie ambizioni e piani, Galip si avvicina a Emir con una richiesta precisa, chiede a Emir di ritirare la sua offerta d'acquisto per la casa di Leila. Il motivo dietro questa richiesta è strategico, Galip teme che l'acquisto possa interferire con i suoi piani o con quelli di alleati importanti, compromettendo così le sue aspirazioni. Queste dinamiche svelano la complessità e l'intreccio di interessi personali, familiari e finanziari che muovono i personaggi, spingendoli a prendere decisioni che influenzeranno non solo le loro vite ma anche quelle di chi li circonda. Mentre Zeynep cerca un nuovo inizio, le mosse di Galip e Emir potrebbero cambiare il destino di più personaggi, evidenziando quanto siano interconnessi i destini in questo intricato scenario. Venerdì 24 maggio 23 e 20. Kemal decide di fare visita a Ozan in ospedale, dove lo trova ancora in fase di recupero. Durante il loro incontro, Kemal presenta a Ozan una proposta significativa, offrirà a lui e a Zeynep tutto il supporto economico necessario, a condizione che lasciano la casa dei Setsin, allontanandosi dall'ambiente tossico creato dalle manipolazioni di Emir e Vildan. Ozan, inizialmente attratto dall'idea di una nuova vita lontana da conflitti familiari, discute entusiasta la proposta con Zeynep. Tuttavia, Zeynep si mostra riluttante e contraria a questa soluzione. Desiderosa di mantenere i propri oscuri segreti, Zeynep decide di sfruttare la possessività di Vildan. Provocandola abilmente, spera di spingere Vildan a opporsi al piano di Kemal, rendendo così più difficile per loro lasciare la casa Setsin. Parallelamente, si svolgono altri intricati piani. Nian rivela a Kemal che Emir sostiene di aver riesumato il corpo di Linda e di averla trasferita in un cimitero. Tuttavia, Kemal, diffidando di Emir, ritiene che questa storia sia solo un diversivo per depistarli dalla verità. Nel frattempo, Leila si prepara ad andare all'asta per acquistare la sua casa, ignara che Vildan e Galip stiano architettando un piano contro di lei. Non sapendo dei loro loschi piani, Leila si dirige all'asta accompagnata da Nian, mentre Kemal è costretto a rimanere indietro. Durante il tragitto, Nian e Leila sono vittime di un tamponamento. Senza i documenti dell'auto, uno degli uomini coinvolti nell'incidente insiste per chiamare la polizia, un contrattempo che sembra una semplice sfortuna, ma è in realtà una macchinazione di Galip. Questo incidente serve a ritardare Nian e Leila, permettendo così a Vildan di partecipare all'asta senza ostacoli. Nel frattempo, Zeynep, che si sente rifiutata dai suoi genitori, trova consolazione nella lussuosa abitazione in cui vive. Decisa a sfruttare al massimo questa opportunità, convince Ozana a non abbandonare la famiglia, nonostante le difficoltà. In un'altra parte della città, la madre di Zeynep, Feime, soffre per la lontananza della figlia, ma trova conforto in Asu, che si dimostra un'amica e un sostegno. Nel frattempo, Kemal, dopo essersi assicurato che Karen sia pronta a rivelargli tutta la verità sugli eventi accaduti, inizia una ricerca frenetica del marito di Karen, Tanner, ancora tenuto prigioniero in un luogo segreto. Mentre questo dramma si sviluppa, Emir assegna a Tariq un incarico molto delicato, intensificando ancora di più il gioco di potere e intrighi. Sabato 25 maggio. Kemal, determinato a chiarire gli eventi oscuri che circondano Tanner, tenta di convincerlo a rivelare la verità su chi lo abbia persuaso a costituirsi alla polizia per un crimine che non ha commesso e il motivo dietro tale decisione. Nonostante gli sforzi di Kemal, Tanner si rifiuta ostinatamente di parlare, temendo per la propria sicurezza o quella dei suoi cari. Nel frattempo, Emir architetta un piano maligno che ha tragiche conseguenze. Con abilità manipolatoria, convince Tariq, il fratello di Kemal, che Karen rappresenti una minaccia per lui. Tariq, cadendo nella trappola e credendo di agire in difesa, finisce per sparare a Karen, uccidendola involontariamente. Questo atto non solo rimuove Karen dalla scena, ma lega Tariq ancora più strettamente a Emir, che ora detiene il potere di ricattarlo. La morte di Karen scuote profondamente Kemal e Nian, che si trovano a dover affrontare una scelta devastante, continuare la loro relazione, accettando il rischio di altre tragedie, o interromperla per proteggersi a vicenda. Sopraffatti dalla disperazione e dal dolore, prendono la dolorosa decisione di separarsi. Zeynep, dal canto suo, spinge Ozzana a organizzare un ricevimento di matrimonio postumo per celebrare la loro unione. Anche se Vildan accetta malvolentieri di organizzare una festa in famiglia, Zeynep ha in mente un evento molto più elaborato e pubblico. Questa decisione causa ulteriori tensioni, come dimostra l'irritazione di Vildan per la pubblicazione di un articolo che annuncia il ricevimento. Banu, intanto, si avvicina sempre più a Tariq, consolandolo nei suoi momenti di disperazione e fornendogli un sostegno emotivo fondamentale durante questo periodo difficile. Leila, travolta dal dolore per la perdita della sua casa d'infanzia, confida a Kemal il suo strazio. Riceve poi una telefonata da Galip, che le offre il suo aiuto per recuperare la proprietà. Tuttavia, Leila rifiuta l'offerta, diffidando delle vere intenzioni di Galip. Zeynep, nonostante le difficoltà, si reca da Kemal per invitarlo al ricevimento, ma il giovane declina l'invito per non causare ulteriori problemi con i suoi genitori. Successivamente, visita i suoi stessi genitori, sperando in una risposta più positiva, ma viene di nuovo rifiutata. In preparazione al ricevimento, Vildan impone a Zeynep di frequentare lezioni di buone maniere con la signora Nurhan, nel tentativo di pulire la sua immagine pubblica. Nel frattempo, Kemal e Zeynep si recano alla prigione di Maltepe per incontrare Tanner. Grazie all'aiuto di Nekmi, un amico di Zeyr, riescono finalmente a convincere Tanner a confessare. L'uomo confessa che si è addossato la colpa dell'omicidio di Karen, gettando nuova luce sui sinistri piani di Emir e sulle manipolazioni dietro le quinte. Domenica 26 maggio 14 e 45. Nian contatta Kemal, esprimendo il desiderio di vederlo. Sensibile alle sue parole, Kemal la conduce in un luogo appartato, un rifugio segreto dove possono parlare liberamente. Qui, Kemal rinnova la sua dichiarazione d'amore verso Nian, ma manifesta anche il suo disagio per la natura nascosta della loro relazione, esprimendo il desiderio di un legame più aperto e onesto. Poco dopo, Kemal incarica Zeyr di metterlo in contatto con un suo collaboratore fidato per filtrarsi nella casa di Tufan. L'operativo di Kemal riesce abilmente a fare in modo che Tufan si accorga di essere osservato, una mossa pensata per metterlo sotto pressione. Sentendosi angosciato e sorvegliato, Tufan finisce per confessare le sue preoccupazioni durante una telefonata a un uomo misterioso, rivelando involontariamente dettagli cruciali. Nel frattempo, Emir cerca di placare l'ansia di Tariq, informandolo che la polizia ha identificato Tanner come l'assassino di Karen e che è stato arrestato. Questa notizia sembra offrire un momentaneo sollievo a Tariq, seppur tormentato dal peso del suo ruolo nella tragica vicenda. I preparativi per il grande ricevimento di matrimonio tra Ozan e Zeynep procedono, nonostante Kemal abbia inizialmente deciso di non partecipare. Tuttavia, viene convinto da Husein, che gli ricorda l'importanza di supportare sua sorella in un giorno così significativo. Alla fine, Kemal si presenta all'evento accompagnato da Asu. Durante il ricevimento, Nian, vedendo Kemal con un'altra donna, è colta da gelosia e dolore, credendo che Kemal abbia intenzionalmente voluto ferirla. Questo la porta a rifugiarsi nell'alcol, esagerando nel tentativo di sopire i suoi sentimenti. Emir, notando lo stato di ubriachezza di Nian, vede un'opportunità per avvicinarsi a lei, ma Nian, anche in quelle condizioni, respinge fermamente le sue avance, ribadendo che non potrà mai amarlo. Colto l'opportunità della presenza di Tufan al ricevimento, Kemal lo mette alle strette, costringendolo a una confessione. Minacciandolo di rivelare a Emir quanto sa, Kemal spinge Tufan a confessare l'identità dell'assassino di Karen. Sotto pressione, Tufan sembra cedere ma, invece di nominare l'assassino, alla fine della serata gli passa un bigliettino con un indirizzo scritto. Sebbene scettico, Kemal decide di seguire questa nuova traccia e si dirige verso l'indirizzo fornito, sperando di avvicinarsi alla verità dietro l'omicidio di Karen.